È necessario realizzare una filiera a livello regionale che sia completa, dalla produzione del prodotto al recupero del rifiuto per trasformarlo in energia o dargli nuova vita. È stato questo l'obiettivo principale del convegno dei conservatori riformisti, tenutosi venerdì 3 dicembre a Palermo, voluto dall'eurodeputato Raffaele Stancanelli nella sede della Fondazione Federico II. Si è discusso sulla questione rifiuti in Sicilia, ogni giorno meno sostenibile. Dall'incontro organizzato dall'eurodeputato Stancanelli è venuta fuori la carta di Palermo, documento programmatico per lo sviluppo dei territori. Il documento verrà consegnato al governo musumeci, così da poter programmare un futuro per la nostra isola che sia virtuoso dal punto di vista della gestione dei rifiuti e vicino ai migliori modelli europei. Proposte concrete e azioni efficaci, questi i punti fondamentali su cui si è incentrato l'incontro. Il convegno di oggi si inquadra nel ciclo di incontri che stiamo facendo come gruppo parlamentare europeo dei conservatori e riformisti in Sicilia. sui temi che interessano ovviamente la nostra regione ma che possono essere collegati strettamente alle risorse europee. Abbiamo fatto nel mese di settembre il convegno sulle infrastrutture che ha avuto una eco assolutamente positiva sull'utilizzazione del PNRR e così stamattina abbiamo pensato a questo convegno sui rifiuti che è un altro grave problema della Sicilia, della nostra regione. per dare delle soluzioni che sono espressamente previste dal PNRR e dai decreti e dai bandi che già il ministro Cingolani ha fatto. Noi riteniamo stamattina attraverso l'intervento dei TEC che ci ha già parlato a Chico Testa, ha parlato a Marco Lupo che è stato direttore generale in Sicilia, i sindaci delle città metropolitane, il rappresentante di una delle più grandi imprese che in Veneto fanno il ciclo continuo dei rifiuti attraverso quindi la spiegazione di una buona prassi tentiamo di creare un supporto serio, organico non la soluzione dei problemi ma un percorso che avvia soluzioni ai problemi dei rifiuti che tutti i sindaci purtroppo dalla Sicilia stanno vivendo e stamattina usciremo con un documento che possa essere appunto di supporto al governo regionale a questo, a quelli che seguiranno, ecco questa è la nostra iniziativa che non vede colori politici perché il gruppo dei conservatori e riformisti vuole essere un supporto serio agli amministratori locali.